La gente delle tasse ha portato questo foglio, dicono che siccome ho una fattoria grande devo pagare un'imposta speciale, dicono che sono benestante perché ho una fattoria grande ma non dicono nulla dei 13 bambini e delle 4 donne che dipendono dalla fattoria, no, dicono che io sono una con una grande fattoria ditemi solo dove sono i denari così che posso andarvi a cercare perché io vi dico che in 3 anni da quando ci manteniamo con quella fattoria quel tipo di soldi non l'ho mai visto, io, le donne, i bambini, nessuno di noi ha mai visto quel tipo di denari in vita sua Le donne si alzarono in massa, le mani volarono alle teste e calarono i copricapi dispiegandosi nell'aria come centinaia di bandiere, i copricapi volarono giù, si trasformarono in cinture e si misero attorno alla vita venendo fissati con bufa determinazione le donne si riversarono nel cortile della scuola superiore, riempirono le strade e marciarono verso il palazzo di Achei Il messaggio che vi reco oggi è il messaggio di tutte le donne che hanno lasciato le loro bancarelle le case, i bambini, le fattorie, le faccende per venire oggi a farvi visita è la folla sofferente raccolta sul vostro prato anteriore le vedete voi stesso, capigliesi? sono tutta la popolazione femminile di Egba e sono venute per dire quando è troppo, è troppo! le parole che mi sentite pronunciare sono le parole della signora Kuti mi ha chiesto di dirvi a nome di tutte quelle donne che vedete fuori che le donne di Egba ne hanno avuto abbastanza muoiono di fame, i loro figli muoiono di fame sono ammalati non hanno nessuna speranza di educazione o di un futuro migliore e tuttavia le loro madri si vedono caricare di ogni onere sempre più grande ora le donne dicono basta! mi devo dire che abbiamo scritto petizioni tenuto incontri protestato dappertutto contro l'ingiustizia di molte di queste imposte che vengono usate per opprimere le nostre donne tassa speciale tassa ordinaria tassa normale tassa di prova basta! le donne di Egba dicono niente tasse di nessun tipo semplicemente niente tasse il mondo è ruminato il mondo sta arrivando alla fine se queste donne possono assediare il palazzo e turbare la pace disse l'ufficiale poi alzò ancora la voce su andate a casa andate alla cucina andate da mangiare ai bambini che cosa ne sapete dell'andamento degli acquari di stato? niente tasse veramente poi lanciando un calcio nella direzione delle donne voi avete bisogno di un bel calcione in quel vostro sedere pigro! mentre rimetteva giù la gamba questa semplicemente cedente ed egli cade a terra imbarazzato scaldò rapidamente in piedi ma quasi cade un'altra volta mentre mentre tentava di appoggiare il suo peso su quella gamba era venuto con sei sequaci e ora essi corsero attorno a lui da esperti e lo portarono via cominciò a calare la calma quando si avvicinò il prepiscolo ad un certo punto era stata presa la decisione che le donne avrebbero tenuto il palazzo sotto assegno finché non fossero state esaudite le loro richieste la calma fu sollecitata da ciò che parla un movimento orchestrato proveniente da tutte le strade scorciatoie che portavano al palazzo questo movimento è nel stesso contrasto con l'iniziale violenza e il caos ma fariva che non fosse un movimento separato semplicemente l'una cosa scoglò nell'altra e diede origine ad un nuovo stato d'anima ad una nuova atmosfera di confione e coesione venivano da altri sentieri nel cuore stesso della città le linee di umanità si arricciavano confiando le alte sfidubili in un avvicinamento finale lungo la stragata che portava alle porte del palazzo erano donne cariche di promiste e cibo e ce n'erano intere più umane fin da circa un uomo prima del prodotto come se avessero fatto segno di stare giù c'erano protezioni di donne che portavano cibo e saluti dei vittaggi lontani arrivavano le mercantese che avevano chiuso le mancarelle per quel giorno si apprezzavano a partecipare agli eventi e al palazzo era calato la sera sul campo quando come per aumentare e consolidare questo nuovo salvatanimo giunse la notizia che una donna aveva le doglie non poteva venire nulla di così proficchio come la nascita della bambina ed era prempita è come se i cieli stessi si fossero aperti come se si fossero scopriate le donne e se tutte le genti morte e dimenticate dagli altri notti si riversassero qui per dirsi a noi io cercai di immaginarmi il loro prigioniero la che chiuso dentro al palazzo con il suo acquario incapace di interrompere il suono di queste e di altre persone che le donne avevano composto su di lui e vedi un uomo spaventato solo 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 non me lo vedevo mangiare il cuore il pregato di nessuno e non riuscivo a capire perché si risultava di scegliere la mia chiesa con il suo senso tutte le richieste delle donne chissà come arrivai alla conclusione che potre egli era stato schiavo dell'officiale di scegliere quanto era prigioniero delle donne di scegliere 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 di scegliere